Ci siamo visti diversi mesi fa. Non ho trovato nessun traffico. Fino a stasera ho troppo da fare. Basta poco per pulire la casa. Ho sentito cosa dicono gli altri. Abbiamo poche piante in casa. I dipinti qui sono di varie epoche. Nel libro ci sono alcuni sbagli. Dopo mi bevo un altro caffè. A scuola tutti vanno d'accordo. Oggi non ho visto nessuno. Devo risolvere certi problemi. Ogni libro deve stare in ordine. Avete perso molti documenti. coincidere coinciso condividere condiviso dividere diviso esplodere esploso evadere evaso implodere imploso perdere 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 perso dipendere dipeso offendere offendere offeso offeso pretendere pretendere preteso accendere acceso scendere scendere sceso scendere sceso chiedere chiedere chiesto chiesto chiudere chiuso chiuso conoscere conoscuto conosciuto succedere succedere successo mettere messo sciogliere sciolto dire detto leggere letto vincere vinto sconfiggere sconfitto accogliere accolto uomo donna cugino cugina papà mamma studente studentessa lettore lettrice autore autrice allenatore allenatore allenatrice sciatore sciatrice amico amica zio zio zia marito moglie maschio femmina fratello sorella cassiere cassiera pittore pittore pittrice pittrice pad figlio figlio figlia pilota 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 dottore dottoressa Dove andate domani sera? Cosa hai fatto stamattina? Quante persone hai invitato? Con chi stavi parlando prima? Qual è il tuo numero di telefono? Mi dici che ore sono adesso? Cosa ti è successo al cinema? Quando aprono i negozi? Come si chiama il tuo gatto? Come si chiama il tuo gatto? Quanta gente va allo stadio? Di chi sono questi guanti? Perché sei stato licenziato? Perché mi dici queste cose? Cosa facciamo questo sabato? Chi è l'uomo che ti saluta? A che ora devi andare via? Quanto tempo stai in città? Quando tornate dalla Spagna? Chi è il tuo migliore amico? Dove siete stati questa estate? Di che colore è la tua auto? Questa mattina sono andato al negozio. Ho parcheggiato e ho preso l'ascensore. Ho sbloccato un carrello con una moneta. Sono salito con la scala mobile. Ho girato tra i reparti per guardare. Ho scelto una giacca e due camice. Sono andato nel camerino per provarle. La giacca era stretta e l'ho messa a posto. Sono andato alla cassa per pagare. La commessa ha segnato il mio acquisto. Mi sono accorto di non avere contanti. Allora ho pagato con la carta di credito. Ho messo la busta con le camicie in auto. Una volta a casa ho lavato le camicie. Mia zia ha comprato qualche panino. Ho bisogno di alcuni giorni di vacanza. Qualche volta non capisco cosa dici. Qualche giorno fa sono venuti i nonni. Alcune studentesse sono in ritardo. A mia madre serve qualche mela. Oggi ho studiato solo alcune pagine. Ha messo qualche matita nella borsa. Sono andato a trovare alcuni amici. Ho alcuni problemi a finire il lavoro. Abbiamo ancora qualche bottiglia. Non viaggiamo da alcuni anni. C'è qualche problema con la banca. Questo non è di alcuna utilità. È bello vederti dopo tanto tempo. Non dimenticarti di chiudere l'auto. Ti chiedo di pensarci su con calma. Ti piacerebbe andare in spiaggia. È importante inviare questo pacco. Dubito di essere puntuale stasera. Luca vuole cambiare la macchina. Ho deciso di anticipare le mie ferie. Domani è urgente finire il lavoro. Claudia non ha voglia di cambiare. Non so ancora cucinare bene. Penso di dover spostare l'auto. Ho visto uscire Paolo da scuola. Luca dice di aver perso le chiavi. Buon. Un buon ragazzo. Un buon amico. Buoni. Dei buoni ragazzi. Dei buoni amici. Buono. Un buono zio. Un buono studente. Buoni. Dei buoni zii. Dei buoni studenti. Buona. Una buona bambina. Una buona pizza. Buone. Delle buone bambine. Delle buone pizze. S. Buon. Buona buona amica. Una buona infermiera. Buone. Delle buone amiche. delle buone infermiere io incontrerò tu incontrerai lui e lei incontrerà noi incontreremo voi incontrerete loro incontreranno io metterò tu metterai lui e lei metterà noi metteremo voi metterete loro metteranno io sentirò tu sentirai lui e lei sentirà noi sentiremo voi sentirete loro sentiranno io cercherò tu cercherai lui e lei cercherà noi cercheremo voi cercherete loro cercheranno io pagherò tu pagherai tu pagherai lui e lei pagherà noi pagheremo voi pagherete loro pagheranno io comincerò tu comincerai lui e lei comincerà noi cominceremo noi cominceremo voi comincerete loro cominceranno io mangerò tu mangerai tu mangerai lui e lei mangerà noi mangeremo voi mangerete loro mangeranno un coltello dei coltelli uno sbaglio degli sbagli una forchetta delle forchette un salotto dei salotti uno zio degli zii una cucina delle cucine uno psicologo degli psicologi un bagno dei bagni una camera delle camere una bottiglia delle bottiglie una sedia delle sedie una tavola delle tavole un bicchiere dei bicchieri un cucchiaio dei cucchiai un cucchiaino dei cucchiaini una forchetta delle forchette un coltello dei coltelli uno gnocco degli gnocchi un'automobile delle automobili un amico degli amici di barkis un'automobile Grazie a tutti